Il sogno di certa destra è mica solo della destra e ora con il governo dei migliori si sta infilando come se fosse una cosa normale. Del resto l'aveva già detto il ministro Cingolani che il cosiddetto decreto semplificazioni sarebbe stata un'accelerata e quando questi usano il verbo accelerare o snellire vogliono sempre dire, senza avere il coraggio di dirlo, che si prepara un certo liberi tutti. Così, nella bozza che gira del decreto, 44 articoli in 45 pagine, c'è spazio per il cemento ad esempio anche nei centri storici, un sogno che non avrebbero nemmeno potuto osare i governi più arditi. Si legge, nelle zone omogenee A, nei centri, nuclei storici consolidati e altre aree di particolare pregio storico architettonico, si potrà ricostruire anche con ampliamenti fuori sagoma o in alzamento dell'altezza, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Poi c'è il famoso capitolo sugli appalti che prevede uno snellimento, siamo sempre lì, che torna utilissimo alle mafie e pensare che dicono smesso da qualche ora di commemorare Falcone. Lo spiega benissimo, chiaramente libera. Sentite, i contenuti delle bozze del decreto semplificazione sul codice degli appalti suscitano grande preoccupazione. Nel provvedimento si prevede una proroga fino al 2026 delle deroghe al codice degli appalti, un ulteriore innalzamento delle soglie per affidamenti diretti senza gara. La pericolosa logica emergenziale della fuga delle regole allarga così il suo raggio di applicazione e si estende all'intero arco temporale di gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Torna nella bozza il cosiddetto appalto integrato, in cui progettazione e esecuzione dei lavori sono oggetto della stessa gara e quindi affidati lo stesso aggiudicatario, con una pericolosa commissione di ruoli che depotenzia la funzione pubblica di programmazione e controllo. Per le opere di recovery viene abrogato il divieto di affidamento congiunto previsto dal codice degli appalti e l'aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio del prezzo più basso, un meccanismo dagli effetti negativi ben noti. De-responsabilizzazione delle stazioni appaltanti da un lato, dall'altro gli incentivi per le imprese a recuperare sui costi con accordi collusivi, perizie supplettive e varianti d'opera, oppure allentando le tutele alla sicurezza dei lavoratori. Illudersi di velocizzare le procedure per questa via è una strategia miope e rischiosa che apre la strada a una liberalizzazione di fatto potenzialmente criminogeno delle gare d'appalto, un vero e proprio liberi tutti per mafie e corruzione. Liberalizzare l'utilizzo senza limiti dei subappalti è il sogno recondito delle mafie da qualche decennio e volendo ben vedere cozza dico anche con quella retorica delle morti sul lavoro che abbiamo ascoltato fino a qualche settimana fa, che ci ha pervaso fino a qualche settimana fa. Ma il punto di fondo è sempre quello. Se sei incapace di migliorare le regole, togliere quelle esistenti non sembra proprio così un'idea degna dei cosiddetti migliori. No, proprio no. Buon lunedì.